andare in galera, come ho detto forse la prima volta, Ivan Urgant, che è un celeberno conduttore televisivo russo, quello che ha fatto Ciao 2021, forse molti di voi ne hanno sentito parlare, quella specie di Sanremo russo, dove i celebri cantanti russi cantavano le loro canzoni ma tradotte in italiano. Sì, l'abbiamo visto. Quello lì ha manifestato, ha aderito allo slogan dei non violenti, vien da dire russi, quelli contro la guerra, che è niente, no, la guerra e lui ha una striscia serale che è stata tolta, cancellata. Quindi, no, 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 ascoltami bene, Putin, Putin, niente Ciao 2022, no, Putin. Putin, ti prego? No, 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 niente Ciao 2022, niente Ciao 2021, no, non è disponibile in Italia, no, 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 Putin, veramente, sei proprio Che sole, abilato Ciao 2022,erei!